Al Ditellel Vasso Girardi ospita il Tolentino in un match valido come recupero della diciassettesima giornata d'andata. Mister prosperi in formazione tipo con guida e salatino in appoggia a un bomber Merkai. Mosconi risponde con Tortelle e Severini di punte e con il 2002 Governali in porta. Abita il signor Stefan Arnaud della sezione di Padova. Subito pericolosi gli ospiti, un minuto e venti secondi sul cronometro con Rucci che si fa trovare pronta la deviazione al volo su un cross dalla destra di Tortelli. Guerra è attento e respinge. Al decimo ci prova Conti con un destro a giro, troppo debole, parla a terra guerra. Meglio gli ospiti in questo inizio, minuto 16. 0-1 Rucci, sbaglia tutto Ruggeri che sul rinvio serve direttamente il numero 8 che controlla e lascia partire un grandestro che batte guerra. Ma il Vasso Girardi reagisce subito, ventiduesimo, Merkai fa tutto da solo in area, si libera di Lobriola e piazza il destro sul palo più lontano. Governari non ci arriva, gran gol per Silvio Merkai che tocca quota 12 in campionato. Ventottesimo, ancora Rucci protagonista, destro dei 25 metri che finisce di poco alto sopra la traversa. Trentaquattresimo, fallo di Tortelli su Rauci, proprio al limite dell'area. Va a battere lo specialista Sergio Ruggeri, destro preciso e rete. 2-1 Vasto per Ruggeri, secondo gol su Pernison e consecutivo dopo Rieti. Non succede più nulla e dopo un minuto di recupero l'albitro fisca alla fine del primo tempo. Con le immagini passiamo alla ripresa. Dopo i primi minuti di studio il primo squilla arriva alla decimo con Laborie, ma il suo sinistro a giro finisce abbondantemente sul fondo. Tredicesimo, in curso di in area di Severini, che mette in mezzo sul palone vanno Ruggeri e Padovani. Tocca quest'ultimo palla che carambola addosso a capitano Ruggeri e termine in rete. 2-2. Il primo cambio del match arriva al sedicesimo. Esce Ruccio, autore del primo gol, ed entra a Minella. Minuto 21, Vasto avanti, azione spettacolare tra Salatino e Guida, che dialogano a meraviglia. Triangolo in area, chiuso dal piatto destro di Guida. 3-2. Gioia che però dura pochissimo. 23esimo, punizioni alla sotera di Minella. La barriera salta e Guerra è sorpreso. 3-3. Si accende una mischia dove rifanno le spese Ruggeri e Capezzani. Entrami ammuniti, siamo al 24esimo. Viene espulso anche Tortelli per un colpo al volto a Guida. Si gioca molto a centrocampo. Comincia la girandola di Cambi. Entrano Gentile, Maniscalchi e Agunzo per il Vasto Girardi. Mentre al 46esimo dentro anche Fioretti e Coglia per un Vasto Girardi a trazione anteriore. Ma non succederà più nulla e dopo 6 minuti di recupero Arnaud manda tutti sotto la doccia per il Vasto Girardi un pareggio che è stata la male in bocca che li proietta a quota 34 punti e nel prossimo weekend sarà a derby contro l'Olimpia agnonese.